Questa è la gradisca di Hélène Bonpart, francese, che fra poco la viene a prendere e se la porta nella nostra città di Francia. La metto nella scatola e poi la sento. C'è la gradisca, sei una delle più belle delle ame, le scatole. La metto nella scatola e poi la sento. La scatola è la scatola e poi la metto nella scatola. La scatola è la scatola. La scatola è la scatola. La scatola è la scatola. Sono molto orgoglioso di avere una scatola. Grazie per te. Grazie per te. Grazie per te. Grazie per te. Grazie per te.